Ciao a tutti, 5 abitudini degli uomini che le donne amano. In questo video voglio raccontarti 5 abitudini degli uomini che le donne amano. Quindi sono abitudini che forse, se sei maschio, ti va la pena, diciamo, che apprendi. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti e abbonati se vuoi delle risposte precise alle tue domande. L'abbonamento è molto semplice, basta andare sull'home page, clicchi sul tasto abbonati e riceverai delle risposte precise alle tue domande che potrai farmi tranquillamente nelle live mirate a te dedicate. Ma veniamo al tema. 5 abitudini degli uomini che le donne amano. Allora, la prima abitudine è guardare una donna mentre le parli, guardarla negli occhi. Molti uomini non lo fanno questo, cioè inizialmente magari lo fanno, poi dopo sono distratti, parlano guardando in giro. Non hanno una particolare attenzione alla propria donna. Guardare negli occhi mentre le parli dà comunque una sensazione di vicinanza, dà comunque una sensazione di volere un rapporto empatico con lei. Quindi questo è molto importante, fondamentale. Quindi se vuoi creare empatia con gli uomini, con una donna, quando le parli guardala attentamente negli occhi. Secondo è una routine di vita stabile, cioè adeguata perlomeno a quelle che sono le esigenze della donna. Se hai una routine di vita in cui, certo, oggi sei qua, domani sei là, non riesci a dare stabilità, beh, può darsi che per un breve periodo alla parte emotiva di una donna piaci anche, però poi nel lungo termine sicuramente non sarai interessata poi a te. Una routine di vita stabile non vuol dire essere noioso, non dare emozioni, ma vuol dire anzi essere emotivamente stabile e saper dare le giuste emozioni. La terza cosa che sembra una banalità, ma in realtà non lo è, è avere una buona igiene personale. Purtroppo molte donne lamentano che alcuni uomini tutta questa igiene personale non ce l'hanno, soprattutto magari hanno le unghie delle mani nere o perché magari fanno un lavoro, oppure perché ha i capelli, diciamo così, non hanno i capelli in ordine, non hanno i capelli ben sempre curati, ben lavati. Oppure per chi ha la barba, non ha la barba ben curata, ben lavata. Altra cosa molto importante di cui un uomo dovrebbe avere una buona igiene è i denti. Una buona, diciamo, igiene orale, sembra un particolare ovvio, ma in realtà così probabilmente così ovvio non è. E poi c'è il discorso del profumo, cioè essere profumati, avere un buon profumo è un'altra cosa fondamentale. Quindi questo terzo punto sembrerebbe ovvio, ma evidentemente così ovvio non è. Quarto punto, non essere dipendente da internet o da videogiochi. Molte donne oggi lamentano che questa abitudine, che invece non ci deve essere, quindi l'abitudine sarebbe di non avere la dipendenza da internet perché molti uomini hanno dipendenza da internet, videogiochi o anche altre situazioni sempre legate a internet. Quindi impara a slegarti un po' dal web e da questi blocchi, da questi vincoli. E come quinto punto che sarebbe una buona abitudine migliorare la propria cultura attraverso lettura, attraverso conoscenze, insomma sviluppare la propria conoscenza e la propria cultura è un'abitudine positiva che purtroppo oggi non molti uomini hanno e molte donne si lamentano di questo. Lascia nei commenti qua sotto quello che ne pensi, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e se vuoi delle risposte precise alle tue domande abbonati al canale, io ti risponderò in apposite live in diretta dove solo tu che sei abbonato potrai porre le domande. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao!